E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Come state? Spero che state bene Oggi, con la skin comprata nello scorso video di Frank DJ Andiamo ad aprire la megacassa 13.000 trofei E vamos! Tante monete mi servono Quindi dai, 215 Ok Un punto di 8 bit, che spilorci 8 punti di... Minchia, che spilorci che sono 11, eh la madonna, eh quanti punti trovo 24 punti, corvo buono 57 Preferivo quale di MC, questo è buono Questo pure però, eh La cassa mi è piaciuta solo I due oggetti bonus, corvo e le monete Il resto è tutto schifo Quindi Questo è il mio profilo, che bello Ragazzi, questa è la megacassa brutta dei 13.000 trofei Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao